ciao ragazzi sono andrei e oggi vi farò vedere come scaricare minecraft pocket edition gratis senza soldi proprio allora per prima cosa dovete andare su internet dovete scrivere aptoide poi cercate cliccate sul primo come vedete qua c'è install aptoide dovete cliccare come potete vedere si sta scaricando ecco si è scaricato adesso dovete cliccare che dobbiamo cliccare e installa come potete vedere si sta installando dobbiamo aspettare un pochino perché ci mette un pochino per scaricarsi e poi con aptoide potete scaricare il gioco che volete gratis quindi vale la pena aspettare se non capite quello che c'è scritto che sono rumeno quindi il telefono è nella lingua rumena ecco poi premete apri se aprirà questa pagina andate correte se volete registrare se no cliccate ignora e poi cliccate dove c'è scritto cerca dove c'è e scrivete minecraft pocket edition oppure solo minecraft come potete vedere c'è scritto come potete vedere come potete vedere c'è il primo minecraft pocket edition cliccate installa però io non c'ho non c'ho la memoria e quindi quindi non riesco a metterlo come potete vedere dice che non c'è abbastanza memoria e va bene con questo video mi ha fatto vedere come scaricare minecraft gratis ciao ciao